si sprofonda si ma se iniziamo a passare un po' la compattiamo è stretta con la curva lì è stretta con la curva lì ormai ti abbiamo preso la cavia ma che qua adesso viene a stare un po' qui se non prendi lo spiego no c'è questo parte che è un po' qui stiamo un po' qui qua vedi su 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 no c'è bene dai bravo bravo sei lì che vai giù anche di là così meno vai giù un po' più piano vai giù di lì poi sali dritto così un po' più tranquillo come vanno le braccia eh si sentono a usarle metti sui carri cerotti no adesso li ho tolto grazie a tutti